Il buon Christian Di Sica ha annunciato l'inizio delle riprese di Un Natale su Marte, il sottitolo del film insieme a Massimo Boldi. A due anni di distanza da amici come prima, la straordinaria coppia di Boldi Di Sica lavora dunque alle riprese del prossimo Scine Palettone per la regia di Neri Paletti. Christian ha postato lo scatto del ciocco del film, seguito da Lila Scaria, oggi è il primo giorno di riprese. Ha conquistato tanti complimenti da parte di tanti followers, letteralmente impazienti di vederlo sui grandi scritti insieme al caro amico Massimo Boldi. Le riprese andranno avanti per sette settimane fino a settembre. Un Natale su Marte ha targato dalla Warner Bros, prodotta la Indiana Production e la regia di Neri Paletti, nel caso c'è anche Elena Vukotic, Paola Naccioni, Ciametta Cicogna, conutrici di Wildo Trenatura e Herbert Ballina. Vi ringrazio per l'ascolto, il video di oggi termina qua. Iscrivetevi se vi va a commentare. Un saluto di caro Dari Andron, un narratore italiano. Un saluto di caro Dari Andron.